Buonasera, buonasera e bentrovati a Passione Biancorosa. In questa puntata è il nostro gradito ospite il difensore dell'FC Sud Tirol, Jan Polak. Buonasera Jan, benvenuto nei nostri studi. Buonasera Rani, buonasera a tutti. Cominciamo come consuetudine dall'ultima partita giocata, quella di domenica sera, Aldruso con il Cesena, un pareggio per 1-1 al termine di una partita intensa, carica di emozioni, giocata bene da entrambe le squadre. Che gara è stata dal tuo punto di vista? È stata una gara abbastanza aperta, con tante occasioni. Cesena è comunque una squadra che gioca bene, che ha attacco con tanti giocatori. Quindi secondo me è stata una partita bella da vedere. Anche il risultato, secondo me, il pareggio è giusto alla fine. Prima di vedere i riflessi filmati della gara del Druso, scorriamo i risultati della 37esima giornata, 18esima e penultima della stagione regolare. Alma Juventus Fano Triestina 1-1, Arezzo La Venna 1-1, Carpi Padova 0-1, Fermana Virtus Vecomp Verona 0-1, Imolese Gubbio 1-0, Mantua Vispesaro 0-1, Modena Legnago Salus 3-0, Perugia Matelica 2-0, San Benedettese Feral Pissalò 0-0, Sutirol Cesena 1-1. Per una classifica che a 90 minuti dalla fine della stagione regolare vede in testa Perugia e Padova a quota 76, con il Perugia avanti negli scontri diretti. Sutirol Terzo a quota 72, matematicamente al terzo posto, in virtù degli scontri diretti favorevoli con il Modena. Modena 69, Feral Pissalò 60, Triestina 58, Gesena 54, Matelica 53, la San Benedettese è stata retrocessa a quota 50 nella giornata di ieri a causa di quattro punti di penalizzazione, Mantua e Virtus Verona 48, Gubbio 45, Fermana 42, Vispesaro e Carpi 41, Legnago e Imolese 35, Fano 33, Arezzo 29 chiude e Ravenna a quota 27. Torniamo alla gara di domenica scorsa, dicevamo ben giocata dai biancorossi, ben giocata anche dal Cesena, Sutirol che ha dimostrato comunque una grande forza di reazione dopo lo stop inopinato a Trieste. Non era facile farlo, con di fronte un avversario come il calibro del Cesena, ci siete riusciti. Sì, come dici tu, è stata una settimana abbastanza difficile, perché la delusione dopo la partita a Trieste è stata grande, contava di partire subito, comunque l'avversario era difficile perché anche nella gara di andata ci hanno messo in difficoltà, perché è una squadra che si muove bene, gioca bene, quindi tutto sommato siamo riusciti a fare una buona gara, ottenere un punto che ci dà sicuramente al terzo posto. E andiamo a vedere ora i riflessi filmati della partita con il Cesena nel servizio confezionato dalla nostra redazione. Due irresponse usciti dal match di ieri sera al Druso. Il primo è che l'FC Suttiro l'Alto Adige chiuderà la stagione regolare al terzo posto. Il secondo è che tra FC e Cesena il pareggio è di rigore. Due entrambi sbagliati, assegnati nel match d'andata finito 0-0. Altrettanti, entrambi trasformati, quelli che ieri hanno decretato l'1-1 al termine di una sfida equilibrata e giocata da entrambe a viso aperto. Partono meglio gli ospiti e alla dodicesimo Poluzzi si fa trovare pronto respingendo di piede un tiro ravvicinato di Caturano. Al diciottesimo mischia nell'area dei locali che sbrogliano a fatica. Risponde l'FC al trentunesimo con una conclusione a giro di Voltan che il portiere Romagnolo respinge in angolo. Dalla bandierina calcia lo stesso Voltan e sulla respinta della difesa la conclusione di Beccaro viene deviata da un braccio di Zecca. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Della trasformazione si incarica Casiraghi che con un potente destro segna l'1-0 che però dura poco perché al quarantunesimo ancora da calcio d'angolo arriva il rigore per il Cesena per un volo in area di Zappella. Inutili le proteste dei locali e stavolta è Bortolussi a mettere la palla nell'angolino dove Poluzzi non può arrivare. È l'1-1 sul quale le squadre vanno al riposo. Al decimo della ripresa occasionissima per l'Alto Adige con Beccaro che mette in mezzo un invitante pallone sul quale Fishnaller e Karic non arrivano per un soffio. Passano quattro minuti e lo stesso Karic si vede respingere da un difensore un tiro a botta sicura. Poi è il Cesena a sfiorare il gol con Zecca che si vede respingere dall'ottimo Poluzzi una conclusione ravvicinata e poi ancora Poluzzi alza sopra la traversa una velenosa incornata dello stesso Zecca a sua azione di contropiede. L'ultima occasione è dell'FC con Fishnaller che al quarantunesimo spedisce fuori un cross di Malomo. Finisce con un 1-1 che combinato con le vittorie di Perugia e Padova porta l'FC a quattro punti dalla vetta rendendo quindi ininfluente l'ultima di campionato domenica prossima a Pesaro. L'FC Alto Adige dunque accede ai play-off da terza in classifica il che gli consentirà di risparmiarsi i due turni della prima fase entrando direttamente al primo turno della fase nazionale con il match ad andata in programma domenica 16 maggio e quello di ritorno in casa giovedì 20. Rieccoci in studio Gian il gol sul rigore di Casiraghi aperto i conti poi c'è stato il pareggio anche in questo caso sul calcio di rigore firmato da Bortolussi tante occasioni in una gara come abbiamo detto intensa il pareggio lo sottolineiamo tutto sommato ci sta equo giusto? Sì 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 anche secondo me Andiamo a sentire ora il commento rilasciato a caldo a fine gara da mister Stefano Vecchi è stata una partita diciamo così aperta ad ogni risultato l'abbiamo giocata a viso aperto sia noi che loro abbiamo provato a tenere viva ancora la speranza di arrivare primi ma abbiamo giocato contro una squadra che mette in difficoltà tutti anche oggi ci ha dato del filo da torcere noi abbiamo avuto qualche buona occasione qualche buona opportunità l'hanno avuto anche loro chiaramente nel secondo tempo però io non posso non non essere orgoglioso di questo gruppo di questi ragazzi che dopo una batosta e dopo una delusione come quella di lunedì sera oggi si sono ripresentati ancora col coltello tra i denti a battagliare in campo è chiaro che è la nostra è quello che vogliamo vogliamo arrivare più in alto in alto possibile però la delusione di lunedì sera poteva ammazzare chiunque invece questo gruppo a testa altissima continua ad essere protagonista di questo campionato lo siamo stati per il primo posto purtroppo non lo possiamo più essere ci prepareremo per per i playoff e cercheremo di raggiungere la miglior posizione possibile perché ce lo meritiamo se lo meritano questi ragazzi perché ripeto ancora anche oggi hanno dimostrato di avere gli attributi veramente la partita era difficile perché comunque il Cesena ripeto veniva visto dalla ultimamente molto bene con le squadre forti e un po' in difficoltà con le squadre diciamo così di bassa classifica anche oggi l'abbiamo visto in una partita aperta in una partita giocata a viso aperto da tutte e due sono stati onestamente molto pericolosi sia all'andata che al ritorno è una delle squadre che ci ha messo più in difficoltà però ripeto ancora anche oggi grande spirito grande atteggiamento abbiamo avuto le opportunità anche per vincere la partita chiaramente però credo che alla fine il risultato sia giusto così Gian cosa possiamo aggiungere alla disamina del Mistre da chi come te l'ha vissuta in campo la partita possiamo dire che la forza del sud non resta sempre il gruppo la capacità di reagire il fare squadra nel vero senso del termine quello è sicuro che questo anno chiunque gioca sta giocando bene e anche durante questa partita abbiamo abbiamo avuto qualche assenza poi pure è uscito uscito Alessandro Fabri quindi dovevamo un po' scalare dietro però siamo riusciti a fare un buon risultato quindi vuol dire che ci siamo è il gruppo importante andiamo a sentire ora le opinioni a caldo di Capitan Hannes Fink sicuramente è stata una delusione importante per tutti noi momento difficile penso che il gruppo ha reagito molto bene durante la settimana il Mistre l'ha gestita molto bene la situazione e ne siamo usciti anche se è un momento come potete pensare difficile per tutti noi sapevamo che il Cesena è una squadra forte ci ha messo in difficoltà anche all'andata perché ha delle idee ben precise ben allenate dal Mistre Viali e sapevamo che dovevamo anche soffrire l'abbiamo fatto una partita sicuramente molto aperta probabilmente va anche bene il risultato del pareggio il risultato giusto in questo momento è difficile perché fino a una settimana fa avevamo l'occasione di vincere questo campionato e chiaramente questa opportunità non siamo riusciti a sfruttarla perciò la delusione chiaramente è grande però non dobbiamo mai dimenticare da dove arriviamo perché siamo riusciti a fare 72 punti perché si lavora bene si lavora tutti insieme è un gruppo unito dove non c'è invidia ma c'è grande rispetto tra di noi e sono queste le cose che ci hanno portato fin qui e queste cose ci porteranno poi anche a fare dei playoff importanti sono sicuro abbiamo lavorato sempre col massimo impegno dal primo giorno così sarà anche fino alla fine perché questo gruppo ha una mentalità importante sicuramente c'è anche grande qualità in questa squadra perciò adesso ci dobbiamo di nuovo concentrare a fare i playoff al massimo e rieccoci nel studio con Jan Pollack un campionato livellato sicuramente verso l'alto il sutilo al terzo posto con il 72 punti tutto sommato ci può stare? resta un po' di rammarico chiaramente però ci può stare ci può stare però come diceva anche Anest lunedì ci giocavamo al primo posto era un'occasione che non capita sempre e non siamo riusciti a sfruttarla quindi l'oramarico rimane però comunque mi ha fatto tantissimi punti chi supera 70 punti di solito veramente può ambire a vincere il campionato però quest'anno ci sono due squadre davanti a noi molto importanti purtroppo purtroppo l'occasione che ci è capitata non siamo riusciti a sfruttarla ora ci fermiamo per qualche istante restate con noi per la seconda parte di Passione Biancorossa passione passione Il primo novembre 1870, il grande incendio di Trento, Rione San Martino. 70 case furono bruciate, 2200 persone persero tutti i loro averi. 20 luglio 1904, il grande incendio di Baldaura di Mezzo. 36 case furono bruciate, 42 famiglie persero tutti i loro averi. I paesi furono ricostruiti grazie all'aiuto di Tirole Rassicurazioni. Tirole Rassicurazioni, sempre vicini a te. Con Sparkass e Auto, il noleggio a lungo termine, ho tutte le spese comprese in una comoda rata mensile. Noleggio a lungo termine, Sparkass e Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero. F-Contract, il vostro partner per la ristrutturazione chiavi in mano dei vostri interni. Idee, concetti, progettazione, organizzazione, problem solving, qualità, BIM Weekend. Questa è la nostra mission, per soddisfare tutte le vostre esigenze. F-Contract Bolzano, www.fcontract.com GS Group È tra le poche imprese della provincia ad avere requisiti richiesti per la sanificazione da agenti patogeni e virus Covid-19. I nostri atomizzatori di perossido o di idrogeno ci permettono in breve tempo, e ad un costo contenuto, di ottenere un risultato che rispetta tutti i protocolli sanitari. Non esitate a contattarci per rendere i vostri ambienti salubri e sanificati. GS Group Bolzano, via Galilei 10H www.globalservice.bz.it Internorm, la più ampia gamma di finestre per il risparmio energetico. Rieccoci in studio con Iana Pola, che abbiamo detto prima dell'interruzione, che è un campionato livellato verso l'altro. Tra Padova e Perugia, chi ti ha impressionato di più? Premettendo che sono due squadre ottimamente attrezzate, con il sutiro che gli ha tenuto validamente testa. No, per me è Perugia, che mi sembra leggermente più forte come squadra. Andiamo a vedere ora con l'ausilio della grafica il programma dell'ultima giornata, la 38esima, 19esima di ritorno, in programma alle ore 15 di domenica 2 maggio, con Cesena Rezzo, Feral Pissalò, Perugia, Gubbio, Fano, Legnago, Salus, Fermana, Mattelica, Imolese, Padova, San Benedettese, Ravenna, Carpi, Triestina, Mantua, Virtus, Verona, Modena e Vispesaro, Suttirol. Ancora con l'ausilio della grafica vediamo anche come sarà l'epilogo del campionato di Serie C dopo gli ultimi 90 minuti. La promozione diretta in Serie B alla prima di ciascun girone. Play-off di Girone, gare secche, primo turno dalla quinta all'undicesima, appunto scontri diretti domenica 9 maggio, secondo turno le vincenti primo turno e le peggiori quarte, gare secche giovedì 13 maggio. Play-off nazionali con gare di andata e ritorno, il primo turno con le sei vincitrici dei play-off di Girone insieme alle tre terze e alla migliore quarta della stagione regolare. Andata domenica 16 maggio, ritorno mercoledì 20 maggio. Il secondo turno dei play-off nazionali prevede la presenza delle cinque provenienti dal primo turno più le seconde classificate, le tre seconde nella stagione regolare, che avranno il ruolo di teste di serie. Quindi gara di ritorno in casa. Andata lunedì 24 maggio, il ritorno venerdì 28 maggio. La Final Four si gioca con gare di andata e ritorno. Le semifinali tra le quattro qualificate. Andata il primo giugno, ritorno sabato 5 giugno. La finale tra le due vincitrici delle semifinali è andata mercoledì 9 giugno, ritorno domenica 13 giugno. Promossa inerci la vincitrice del doppio incontro. In caso di parità dopo i 180 minuti della finale sono previsti supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Rieccoci in studio con Ian Polakian. Allora a questo punto testa e gambe ai play-off. No, assolutamente sì. Adesso bisogna risettare tutto. Provare a diventare il miglior terza dei tre gironi che ci può dare qualche vantaggio. E prepararsi ai play-off, recuperare tutti i giocatori perché si gioca spesso, ogni quattro giorni, credo. E niente, ripartire, lavorare come stiamo lavorando perché è una competizione dove decide il momento. La forma al momento decide ogni situazione, magari una espulsione, un rigore. Quindi bisogna stare ancora di più sul pezzo e lavorare come stiamo facendo. Nel prossimo servizio parliamo di settore giovanile, del campionato Primavera 3 con la giovane compagine Biancorossa che sta disputando sicuramente un ottimo torneo. Vediamo la sintesi della gara interna di sabato scorso con la Feral Pissalò. Nonna giornata seconda del gironi di ritorno del campionato nazionale Primavera 3 e va in scena sul sintetico dell'FCS Center di Masoronco la sfida tra la seconda e la terza del girone bifera. Al Pissalò e FC su Tirol distanziati di due soli punti a favore dei gardesani. I biancorossi provengono dalla terza sconfitta subita nel finale di gara sul campo dell'imbattuta capolista Albino Leffe mentre i bresciani sono reduci dall'1 a 1 interno con la Virtus. Verona, prima azione degna di nota, è sul fronte ospite. tredicesimo con questo diagonale basso dal fondo di carbone con palla che si spegne sul fondo. Diciassettesimo, occasione biancorossa, il pallone sguscia via toccato da un giocatore ospite per finire in corner senza essere intercettato. Sulla di sviluppi del tiro dalla bandierina di sinistra di Maier sin in corna e manda di poco alto. Ventiquattresimo, Musatti calcia da fuori aria e spedisce sul fondo. Al trentottesimo la gara si sblocca, vinci guerra. crossa dalla destra per il tocco sottoporta vincente di Sartori che firma l'1 a 0. Secondo tempo, ottavo, i biancorossi confezionano una pregevole manovra offensiva. Sartori non riesce il gioco aereo, l'azione prosegue ed è Maier a concludere a rete per il 2 a 0. Diciottesimo accorciano i bresciani che concretizzano l'occasione con Beltrami. La gara è vivace, ben giocata e combattuta. Al dodicesimo, conclusione da fuori di Musatti, Tainer si distende e manda in angolo. Sedicesimo incursione di Meloni dalla sinistra, tiro con Tainer che para a terra. Trentaquattresimo dalla parte opposta, ci prova Volino, palla out di poco. Trentacinquesimo ci prova dalla destra, Picchi, Tainer respinge di piede in corner. Trentottesimo, Volino prova il tiro ad incrociare in aria ma non riesce. Alla quarantaseiesimo, conclusione di Cristini, respinge Corto Maier e prenderà Cagni che firma il 2 a 2 definitivo. E rieccoci in studio, siamo ormai in conclusione con Jan Polak. Per quanto ti riguarda personalmente, diciamo che tu nella vita privata di hobby ne puoi coltivare ben pochi, però ci sono tre figli da crescere. No, sì, stiamo bene, tutti stanno bene, ragazzi vanno a scuola, quindi siamo contenti che possono crescere, socializzarsi con gli altri, va bene così. Stanno bene in questa realtà? Sì, 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 ci troviamo bene. Jan, grazie, grazie della tua presenza, grazie della cortesia. Il nostro appuntamento termina qui, ringrazio Paolo Savio in regia e tutta la nostra redazione e lo staff tecnico. L'appuntamento con Passione Bianco-Rossa è per giovedì 13 maggio alla stessa ora. A tutti voi, grazie per l'attenzione e l'augurio di trascorrere una serena serata. Grazie per l'attenzione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti